Musica Bentrovati in nuova edizione del nostro telegiornale In primo piano la cronaca, droga, estorsioni, altri reati Oltre 20 le persone coinvolte nell'operazione cocktail della Guardia di Finanza Con epicentro a Cerignola nel Foggiano Ma il blitz ha coinvolto anche altre province come Bari, Brindisi e Potenza Il sequestro di beni poi per circa 5 milioni di euro Sentiamo In questa operazione è stato applicato un magistrato della Direzione Nazionale Antimafia La Direzione Nazionale sta veramente ci sta dando una grossissima mano Nell'affrontare la tematica della criminalità organizzata di tutto il territorio In particolare di quella foggiana E' una, credo che sia una delle priorità a livello nazionale Sono 23 le persone arrestate in una vasta operazione E' seguita dai carabinieri di Foggia In collaborazione con i militari della Guardia di Finanza 22 sono finite in carcere, una ai domiciliari Un carabiniere che lavorava a Melfi nel Potentino invece è stato interdetto Le persone arrestate sono accusate a vario titolo di associazione Dedita al traffico e alla vendita di sostanze stupefacenti Cocaina, marijuana e hashish, oltre 23 chili sequestrati Detenzione e porto in luogo pubblico di armi da sparo Sia comuni che da guerra, anche clandestine Estorsione, ricettazione e tentato omicidio aggravato Nei confronti degli indagati è stato disposto il sequestro di disponibilità finanziari E beni mobili e immobili Quote societarie e compendi aziendali Per un valore di oltre 5 milioni di euro Le persone arrestate sono in gran parte di Cerignola Una è albanese e risiede nel Foggiano Due sono di San Pietro Vernotico nel Brindisino E poi un noto pregiudicato di Terlizzi nel Barese In particolare un grosso pregiudicato di Terlizzi Che è il principale fornitore di cocaina Che in questo caso viene commercializzata con provenienza Provincia di Bari e destinazione Provincia di Foggia Il carabiniere, all'epoca dei fatti in servizio a Melfi È stato interdetto per aver fornito informazioni agli indagati Su uno dei filoni dell'indagine Indagine che è una costola dell'operazione antimafia Decima azione del dicembre 2018 Contro i tre sodalizi della cosiddetta società foggiana Ovvero la mafia attiva a Foggia in provincia Le indagini hanno permesso anche di sventare un assalto Ad un cavo di una società con sede in Svizzera Inoltre è stata rilevata la presenza di tre associazioni Dedite al traffico e allo spaccio di stupefacenti Con base operativa e logistica a Cerignola E in affari tra loro I militari hanno anche indagato per tentato omicidio Uno dei presunti responsabili di una violenta aggressione Nei confronti di un cerignolano Al culmine di una lite scaturita per la circolazione stradale La vittima non denunciò per timore di ritorsioni Sono stati beccati con un chilo 350 grammi di eroina Nell'auto un trentenne e un trentacinquenne Di nazionalità albanese Ma residenti a Policoro nella provincia di Matera Sono finiti in carcere per traffico di droga La finanza ha trovato il carico Durante un controllo sulla statale 106 Hanno ispezionato l'auto Una Mercedes Coupé che viaggiava verso la Calabria Ne è seguita anche una perquisizione domiciliare Dove sono stati trovati un altro chilo e mezzo di eroina 15 grammi di hashish 2,4 kg di sostanza da taglio per l'eroina La droga del valore commerciale Al dettaglio di oltre 200.000 euro E l'auto utilizzata per il trasporto Sono state sequestrate Ancora cronaca aggredito nella notte Un medico del pronto soccorso del Giovanni XXIII di Bari Si indaga sulla vicenda Intanto la direzione è pronta a sporgere denuncia Ancora un'aggressione ai danni di un medico del pronto soccorso L'episodio questa volta è accaduto all'ospedale pediatrico di Bari Giovanni XXIII Stando alla prima ricostruzione dei fatti Nella notte un uomo accompagnato il figlio all'ospedale Ma a quanto pare stanco di attendere il proprio turno Avrebbe rotto con un pugno il vetro della porta dell'ambulatorio Cercando di aggredire un medico in turno Rimasto ferito al volto da una scheggia schizzata via dalla vetrata Che i due entrassero in contatto E che si consumasse un'aggressione È stato evitato solo grazie all'intervento immediato Della guardia giurata in turno La notizia riportata dall'ANSA Ha subito fatto attivare la direzione Dell'azienda sanitaria locale Il direttore generale del policlinico Giovanni Migliore Si è recato sul posto per accertare i fatti E per incontrare i medici e il personale La direzione, fanno sapere dall'ospedale Condanna duramente la violenza E sporgerà denuncia Come è noto è solo l'ultimo Di diversi episodi di aggressioni ai medici Un fenomeno sul quale più volte sono intervenuti I rappresentanti di categoria E gli ordini professionali E per i quali si chiede maggiore attenzione Esprimo la mia solidarietà ai colleghi Vittime di questo ennesimo episodio di violenza Le aggressioni nei presidi sanitari Lasciano conseguenze non solo su chi le subisce direttamente Ma anche su coloro che assistono E che da quel momento andranno a lavoro con la paura Così Filippo Anelli Presidente dell'Ordine dei Medici di Bari E della Federazione dei Medici Che torna sulla questione carenza del personale Anche questo fa aumentare rischi e conflittualità La polizia ha portato in carcere L'operatore sociosanitario 42enne Antonio Vero Già ai domiciliari dallo scorso 3 agosto Con l'accusa di maltrattamenti aggravati E violenza sessuale aggravata Nei confronti di alcuni pazienti ricoverati Nella RSA Stella Maris di Manfredonia Nel Foggiano Gli altri tre indagati sono tornati in libertà Per decorrenza di termini Vero era il solo A rispondere di violenza sessuale Furono 14 le vittime Ricorderete dei maltrattamenti Accertati dagli investigatori Oltra settantenni Tra cui anche un novantotenne E cambiamo argomento Parliamo adesso di sicurezza Sul lavoro L'iniziativa Taranto Nel liceo Vittorino da Feltre I ragazzi hanno realizzato Un video che racconta Il mondo della sicurezza Nella concertistica Diciannovesima giornata Della sicurezza Taranto Organizzata da Ina Il Formedil CPT Al Vittorino da Feltre Sono state illustrate Tutte le iniziative Per potenziare la sicurezza sul lavoro E delle scorse ore L'episodio della morte sul lavoro Di un 32enne di Oria Andrea Santorsola Caduto da una scala In un cantiere di Ile È urgente sensibilizzare sul tema Per i lavoratori Sul piano comportamentale Per le imprese Perché la sicurezza Sia considerata un investimento Uno strumento è il cosiddetto Bollino sicurezza cantieri È una sorta di premialità Che viene riconosciuta Alle imprese virtuose Che consentono ai nostri tecnici Di accedere nei cantieri Delle imprese Per verificare Se ci sono appunto Tutte quelle situazioni Sia in fase Riferite alla documentazione Sia riferite alle fasi lavorative Nel rispetto delle norme Vigenti dell'81 Non è un'ispezione Sono solamente attività di assistenza Controllo Per poi Finalizzata appunto Al conseguimento del bollino L'attenzione è anche Sui mancati infortuni Con il progetto Condivido Oggi è la giornata Per condividere Appunto il progetto Condivido Che vuole essere Un sistema Che attiva sui territori Delle reti collaborative Tra sistema pubblico E sistema privato Al fine di ampliare le conoscenze E metterla a fattore comune Di appunto Di quegli eventi Chiamati Near Miss Quindi mancati infortuni Noi presentiamo un lavoro Che è stato fatto l'anno scorso In collaborazione Con l'associazione A46 e INAIL È un video breve È un cortometraggio Che parla di come si gestisce Un concerto C'è un evento Che per i ragazzi Di solito È solo un evento gioioso Che vedono dall'altra parte Della parte degli spalti In che modo si organizza E che cosa c'è dietro Le professionalità lavorative Ma soprattutto La gestione della sicurezza Il sit-in questa mattina Dei lavoratori Della Nodis Di Bari Questa mattina Davanti alla sede Dell'ASL Si sono riuniti La regione ci convochi Hanno detto E l'ASL faccia chiarezza Rischia di aumentare Il numero di mensilità Non pagate I lavoratori E le lavoratrici Della cooperativa Nodis Impegnati nel servizio Di trasporto pubblico Per le persone Emodializzate Per conto dell'ASL Da qui Il sit-in di protesta Davanti all'ingresso Dell'ASL di Bari Finché non avremmo risposte Dicono Lo sciopero continua La protesta Per questi lavoratori Continua In quanto ad oggi Sono già due stipendi Di gennaio e febbraio 2023 Che questi lavoratori Non hanno ancora percepito Oggi qui Abbiamo una prima fase Di protesta Davanti all'ASL Perché chiediamo Un confronto tecnico All'azienda sanitaria locale Per capire Come poter gestire Questa avvertenza Un'avvertenza paradossale In quanto il servizio Di trasporto Dell'emo Dializzati È esistente La commessa C'è Ma la società cooperativa Non è in grado Di gestire E quindi Corrispondere Gli stipendi Abbiamo anche richiesto Un'attivazione Al tavolo di Tax Force Per gestire Questa crisi E stiamo anche In attesa Di essere convocati In regione Puglia Quello che chiediamo Oggi all'ASL È di fare chiarezza Su questa vicenda I temi della politica Giovani Donne Sud Autonomia Differenziata Sono questi gli argomenti Che preoccupano La neo vicepresidente Del partito democratico Loredana Capone Presidente del consiglio Regionale della Puglia Bruxelles Per la plenaria Del comitato europeo Delle regioni Il PD Ha dimostrato Di essere contrario Al progetto Calderoli Dichiara Perché bisogna garantire Gli stessi servizi A tutti i cittadini Che nascano a sud Al centro O al nord Non si può pensare Aggiunge Di fare norme Che privilegiano Alcune regioni E che lasciano Ancora più indietro Le altre Poi tratta gli argomenti Con Ellie Schlein Si sta dimostrando Che la politica Si può occupare Dei temi concreti Come giovani Donne sud Che sono le direttrici Fondamentali Della Next Generation EU Che devono guidare Le politiche In Europa Come in Italia E andiamo a Polignano Ammare Che ha ricevuto Il riconoscimento Da Booking.com Di città più Accogliente Al mondo Oggi negli spazi Della fondazione Pino Pascali La consegna Del premio Polignano oggi Rappresenta L'intera Puglia È la capitale Dell'accoglienza pugliese È la capitale Di un modo Di essere Dei pugliesi E così Polignano Ammare È stata premiata Da Booking.com Come località Più accogliente Al mondo Il comune pugliese È risultato L'unico italiano Tra le prime Dieci città Della classifica Stilata dalla Piattaforma online Dedicata All'ospitalità Grazie anche All'importante Contributo Dei propri utenti Ed è tra l'altro La prima volta Che Booking Decide di Premiare fisicamente La città Vincitrice Quindi la consegna C'è stata Qui a Polignano Ammare Segno Dell'avvio Di un percorso Che punta A creare un legame Sempre più forte Con le località Turistiche Il criterio Che per selezionare Appunto La località Più accogliente Del mondo È la percentuale Di review Che vengono ottenute Su quella Destinazione Rispetto al totale E Polignano Ammare È stata proprio La città Dell'intera piattaforma Globale Che ha ricevuto Più una percentuale Maggiore Rispetto a tutte Le altre città Di review Da parte Dei viaggiatori Vogliamo che Chi arriva in Puglia Abbia un'accoglienza Totale Fatta di servizi Sempre più alti Come standard Qualitative Soprattutto orientati All'autenticità Dei nostri Dei nostri Territori Polignano Riesce a restituire Questa dimensione Perché Per cui È giusto Che abbia Un riconoscimento Avere una città In Puglia La più accogliente Del mondo È per noi Motivo di vanto E cercheremo In tutte le maniere Nel 2023 Di rispettare E di portare avanti Ancora questo premio Così importante Che riceve oggi Polignano Guai a pensare Che sia un punto di arrivo È un riconoscimento E oggi gioiamo Per questa vittoria Per questo premio Però Ne ho parlato già Con tutte le associazioni Di categorie Turistiche Del territorio È il nostro slancio Il punto di partenza Perché dobbiamo Rendere ancora Più autentico Nel territorio Il turismo E torniamo sul tema Della Xylella In Puglia Dieci anni Di lotta È necessario Recuperare il piano Straordinario Con i suoi fondi Ormai fermi Da anni La denuncia Arriva da Una Prol La scienza Al centro Delle soluzioni Anche quando si parla Di Xylella Fastidiosa È quanto ribadito Da Una Prol Nel corso Dell'incontro Organizzato sul tema Bari In occasione Del centenario Del Consiglio Nazionale Delle Ricerche Una Prol In questi dieci anni Di lotta La batterio killer Delle Olivi Proprio con il CNR Ha contribuito A promuovere Progetti importanti Per cercare Di trovare Cultivar Resistenti al batterio E per provare A frenare La corsa Dello stesso Le aziende In dieci anni Hanno perso Ricchezza Competitività E forse anche Speranza Questo è Il più grosso Problema Bisogna però Ora mettere il piede Sull'acceleratore Per avviare L'iter Di autorizzazione Delle nuove Cultivar In base ai risultati Proprio delle sperimentazioni Del CNR Il CNR È stato un punto Di riferimento Diciamo Stabile Ed affidabile Quello che avevano Previsto sarebbe successo Purtroppo è successo E quindi La scienza In questo caso Ha detto Quello che Dovevamo fare Purtroppo non è stato fatto Problemi legati Alla politica Tematiche elettorali O tematiche Che non c'entrano Nulla Né con la produzione Territoriale Né tantomeno Con l'economia Territoriale La lotta La xylella Fastidiosa Deve essere portata Avanti in maniera Corale Anche con il supporto Di Regione Puglia Che deve mettere A disposizione I fondi Sanziati Dal piano straordinario Per la rigenerazione Olivicola Della Puglia La beffa vera È vedere 300 milioni di euro Ancora fermi Nelle casse pubbliche Dove in realtà L'obiettivo era molto chiaro Compensare Il reddito Degli agricoltori Dargli una possibilità Per poter Ripartire rapidamente E questo non è avvenuto E cambiamo argomento A Bari Una corona di fiori Per onorare Il ricordo Di Giuseppe Mizzi A 12 anni Dal suo omicidio Vittima innocente Di mafia La deposta Il sindaco Antonio De Caro Per uno scambio Di persona Durante un agguato Mafioso Il barese Giuseppe Mizzi Padre e marito Esemplare Dedito alla famiglia E al lavoro Fu assassinato All'età di 39 anni Davanti alla sua abitazione Nel quartiere Carbonara Era il 16 marzo Del 2011 Per questo omicidio Fu condannato All'ergastolo Il boss barese Antonio Battista Ritenuto affiliato Al clan di Cosola In occasione Del dodicesimo anniversario Di quel triste evento Il sindaco di Bari Antonio De Caro E il prefetto Antonella Bellomo Hanno deposto Una corona di fiori Nel luogo dell'omicidio Per onorare Il ricordo Di Giuseppe Mizzi Noi Mizzi Lo ricordiamo È morto qui Vittima innocente Di mafia Perché clan rivali Si stavano fronteggiando E l'hanno ammazzato Per uno scambio di persone Padre di famiglia Una persona per bene Lo vogliamo ricordare Per fare in modo Che queste cose Non accadano mai più Una ricorrenza Alla quale hanno partecipato Anche i familiari Di Giuseppe Mizzi È questo un dolore Che non passerà mai 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 Per un figlio È la più brutta cosa Che ti può succedere Nella vita Qual è il ricordo Che resta? Il ricordo che resta Il giorno della sua morte È stato terribile per noi Un ricordo Che non lo scoderemo mai Però Abbiamo avuto anche la forza Il coraggio Di reagire E di lottare E lo faremo sempre Tutti i giorni Della nostra vita Noi Non ci arrendiamo Abbiamo scoperto La crude realtà Che la mafia è forte E noi dobbiamo essere Più forti È libera contro Tutte le mafie Arriva Barletta Il referente regionale Don Angelo Cassano È un nuovo tassello Questo nella geografia Della Speranza Libera è un presidio importante Su tutto il territorio nazionale Quindi a Barletta mancava E quindi è una giornata di festa Questa È così per Barletta Una giornata di festa Per l'apertura del presidio di Libera L'associazione contro le mafie Che nel comune mancava Presente il referente regionale Di Libera Don Angelo Cassano Che parla di geografia Della Speranza Da più parti Sembrava che a Barletta Non ci fosse la percezione Ci fosse una normalizzazione Del fenomeno Una sminualizzazione Del fenomeno Perché poi Sappiamo che le indagini Ci fanno capire In maniera preoccupante Che Barletta Ha una sorta di infiltrazione Mafiosa C'è la mafia Ma c'è la cultura mafiosa E quindi È lì che dobbiamo Lavorare molto Sul piano educativo Culturale Sul piano delle politiche sociali Perché è importante Ecco vedere Il discorso della legalità In funzione Della giustizia sociale Una inaugurazione Che arriva in tempo Per il 21 marzo Giornata nazionale Della memoria E dell'impegno In ricordo Delle vittime innocenti Delle mafie Quest'anno Nella 28esima edizione Per noi è un appuntamento annuale Quello del 21 di marzo Di ogni anno Purtroppo anche questo territorio Ha visto versare Il sangue di vittime innocenti Alcuni di noi Parteciperanno All'evento Che ci sarà a Milano Il 21 E conoscere tutte le realtà Di libera A livello nazionale Però anche a Barletta Ci sono Un po' di iniziative Che vogliamo programmare Ad esempio Con la copp Con dei banchetti O anche incontrando Gli studenti E le studentesse E studentesse Degli istituti superiori Ed è stata presentata a Potenza La Marcia della Pace Che si terrà domani Un corteo Per dire no A tutte le guerre Sarà una croce Realizzata Con alcuni legni Dell'imbarcazione Nofragata a Cutro Ad aprire La Marcia della Pace Che è stata organizzata Per domani Venerdì 17 marzo A Potenza Una manifestazione Per dire no A tutte le guerre Anche quelle Delle quali Non se ne parla Una marcia simbolica Anche per denunciare Le conseguenze indirette Dei conflitti Come i flussi migratori Che portano migliaia Di profughi A tentare viaggi Della speranza Che spesso Naufragio di Cutro Dojet Portano Ai mani tragedie Il corteo Pacifico Pacifista E colorato Si sposterà Lungo un percorso Di 1,7 km Metri Partendo Partendo dalla parrocchia Dei Santi Anne Gioacchino In Viale Dante Fino a raggiungere La chiesa Di San Giuseppe Nel rione Di Chianchetta Saranno 28 Le associazioni Gli istituti scolastici E componenti Di diverse parrocchie Potentine Che parteciperanno Al corteo Che rispetto A quello Dello scorso anno Al quale aderirono Meno associazioni Sarà più numeroso L'invito Hanno spiegato Gli organizzatori Rivolto soprattutto Alle famiglie Per educare I nostri figli Alla cultura Della pace Contro ogni tipo di guerra Fondamentalmente Il tema è la pace E di riflesso Anche le guerre Perché di guerre Ne abbiamo Piene le tasche Perché stiamo Sempre in guerra Noi che siamo Aperti al mondo E abbiamo Relazioni con Mezzomondo Sappiamo che Dappertutto Ci sono guerre Noi abbiamo Un laboratorio Di educazione Alla pace Che ha due binari Uno La geopolitica L'altro Noi meridionali Ci affacciamo Sul Mediterraneo Dobbiamo guardare Il Mediterraneo E intessere Rapporti diversi Con il Mediterraneo Questi sono I messaggi di pace Che possiamo portare avanti Tantissimi bambini Stanno soffrendo Altri hanno perduto La vita E non mi sembra Giusto questo Una tragedia Troppo forte Genitori Mamme Papà Che perdono i figli I figli Che perdono Mamma e papà E' una cosa tremenda Il nuoto Il comune di Bari Si dona una targa La giovane Campionessa di nuoto Paralimpico Ramona Botta Mi alleno in piscina Il lunedì Il mercoledì mattina Il giovedì Il pomeriggio E il sabato mattina Nuoto da bandero piccola Però con lui Da aprile Si racconta con umiltà E delicatezza Ramona Botta La campionessa Che ha tolto il record Nazionale Juniors Ai campionati italiani Assoluti Di nuoto paralimpico In Vasca Corta Lo scorso novembre A Fabriano E adesso A Lignano Sabbiadoro Dal 9 al 12 marzo Scorso Si è classificata Prima Nei 50 metri Stile libero E seconda Nei 100 metri Dorso E nei 100 metri Rana Un successo Per cui il comune Di Bari Ha deciso Di donarle una targa Ha vinto Assieme all'allenatore Con cui Diceva Ramona Si allena Da aprile Si è vero È solo un anno Però è un atleta Che per fortuna Ha nuotato sin da piccola Quindi Diciamo Precluso Alcune situazioni Che si potevano creare Qualora avesse Veramente Effettivamente Iniziato l'anno scorso Ma grazie a quelle qualifiche Io ho avuto la fortuna Di poterla Allenare velocemente E portarla A quelli che sono Dei risultati Che oggi Sono veramente Strabilianti Perché Essere già A livello nazionale Aver stabilito Anche un record Su fazza corta Le permette Di poter parlare Da quel punto di vista Come atleta A livello nazionale Al di là della targa C'è l'affetto Di tante persone Che qui oggi Hanno consegnato Questa targa A Ramona Perché Perché ci sono tante persone Che vogliono bene A Ramona La sua famiglia Tanti L'amministrazione comunale E tanti amici Che oggi erano qui A testimoniare Il lavoro importante Che Ramona Ha fatto quest'anno Su se stessa E anche per Per la maglia E la società Per la quale Per la quale Gareggia Brava Ramona La targa Poteva essere più bella Ma la cosa più bella È davvero L'affetto Che noi nutriamo Per te Cinema Ambiente Giovani Sono questi Tre ingredienti Di Greenland Il progetto Promosso Dalle associazioni Alle Lammi E della APS Tra Puglia e Basilicata A maggio Le fasi finali Vediamo di che cosa Si tratta Sviluppare e accrescere Le conoscenze critiche E le competenze Nel settore cinematografico Con un focus Tematico sull'ambiente Mettendo al centro I più giovani Gli studenti Pugliesi e Lucani In questo caso Coinvolgendo le scuole E questo è lo scopo Del progetto Greenland Partito a dicembre 2022 Promosso dalle associazioni Alle Lammi Capofila E della APS La prima attiva Nel settore cinema Ed educazione All'audiovisivo La seconda Sui temi Della sostenibilità E della rigenerazione urbana Quali i processi Della progetto? Tre fasi Una fase Di trasferimento Di conoscenze Di linguaggio Linguaggio cinematografico Successivamente I ragazzi Sono stati invitati E guidati Ad una fase Di scrittura creativa Individuando Incipit Di soggetti Tematiche Queste sceneggiature Poi saranno spogliate Nel gergo E i ragazzi avranno La possibilità In una modalità Residenziale Sotto forma di campus Nella provincia di Matera Nella zona di Pisticci Craco Nel cineparco Tilt Avranno la possibilità Di fare la film production Nelle date Del 23, 24 e 25 marzo Si alterneranno Attività teoriche E pratiche Di film production Durante le quali Gli studenti Si metteranno alla prova La fase finale Del progetto Poi chiude La filiera del cinema Con le attività Di film promotion Nella realizzazione A Taranto Presso la biblioteca civica Pietro Acclario Della prima edizione Della Greenland City Fest Nelle giornate Del 3, 4 e 5 maggio Il progetto È stato pensato Per connettere I territori Di Puglia E di Basilicata Ma nello specifico Di far incontrare Gli studenti Delle scuole Che noi ringraziamo Naturalmente Che hanno aderito A questo progetto Quante scuole E di quante città? Allora Le scuole Coinvolte sono 5 Abbiamo Due scuole Lucane E due scuole Pugliesi Nello specifico Ci sono due scuole Di Taranto E una scuola Di Matera E di Montalbano Ionico E poi come vi dicevo Abbiamo anche Diciamo Allargato A questo istituto Comprensivo Allargando un po' Il territorio A Torre Santa Susanna In provincia Di Brindisi La nota influencer Attivista E di recente Anche scrittrice Tornata nella sua Matera Per presentare Il libro Femminucce Donne che cambiano Le regole Vediamo Si definisce Fieramente femminista Federica Fabrizio In arte Federippi La nota influencer Attivista E di recente Anche scrittrice Tornata nella sua Matera Per presentare Il libro Femminucce Donne che cambiano Le regole Negli anni 70 Non esistevano i social Però le battaglie di ieri Sono molto collegate Alle battaglie di oggi Quindi comunque Ci battiamo per il riconoscimento Di alcuni diritti Che sembravano dati per scontato Invece non lo sono Come il diritto di aborto Ma anche il diritto Di occupare posizioni lavorative Ed essere retribuite Allo stesso modo Ma anche diritti Semplicemente Ad attraversare Gli spazi Delle città I luoghi pubblici In maniera più sicura Possibile Per esempio Il tuo libro Ripercorre la storia Un po' Del femminismo Oppure guarda Nuovi scenari Entrambe le cose Perché Diciamo che il mio obiettivo Era quello di andare A ricoprire Un piccolo pezzetto Di comunicazione Che spesso viene Involontariamente interrotta Tra le vecchie generazioni E le nuove Il femminismo Poi è un percorso Non è che si arriva mai Da nessuna parte Però sperando che un domani Magari Anche leggendo questo libro Le persone dicano Sai che c'è Ma lo faccio pure io Ma parlo pure io Di queste cose Proprio in queste settimane Federica Fabrizio Si sta facendo conoscere Al grande pubblico Con la partecipazione Alla decima edizione Del programma di Skype Kino Express Qui partecipa Con l'amica e collega Giorgia Soleri Sono cresciuta In una famiglia Che è sempre stata Estremamente appassionata Di viaggi Sono tantissime cose Che sono universali E che dovremmo imparare Dovremmo imparare A fare comunità Come fanno comunità In posti Non troppo Neanche lontani Dall'Italia Quindi L'augurio Che faccio a me stessa E aumentare Il mio sguardo Ampliare il mio sguardo Sempre con curiosità Tra gli ospiti Della serata Anche Pegamo Shirpur Quello che accade In Iran Sta accomunando In realtà Anche tante altre donne Dobbiamo continuare A mantenere alta L'attenzione E non perdere di vista Quelle che sono Le nostre libertà Perché poi sono La libertà del collettivo Di un futuro migliore Da Matera Una colomba In carta pesta Per Papa Francesco Sarà donata sabato A Papa Francesco La colomba della pace Realizzata in carta pesta Da mani speciali In occasione Dell'anniversario Del progetto Policoro Un'opera Che è il frutto Di un percorso artigianale Di riabilitazione Di giovani adulti Provenienti da comunità Di recupero Delle tossicodipendenze A guidarli Sono stati artisti Ragazzi con la sindrome Di Down Assunti nell'organico Della cooperativa sociale Oltre l'arte Insieme operatori Educatori E animatori Questo progetto Va sotto il nome Di Craft Hub E ha visto Come protagonisti I ragazzi Della comunità Immanuel Infatti diciamo Al Papa Regaleremo Quest'opera Che ha appunto Un valore Di inclusione sociale Molto più ampio Rispetto a quello Che la nostra esperienza Già riusciva a realizzare E siamo felici Perché diciamo Stiamo allargando Anche le prospettive Rispetto non solo Alla nostra città Ma all'intera regione Un'iniziativa Realizzata con Materab Dico che è un win-win Per tutti Questa è la cosa Che abbiamo notato Nel senso che La reazione Degli accolti Che hanno partecipato Nei laboratori È stato Inespetato da noi Nel senso che Si sono sciolti Si sono aperti Completamente Nei nostri confronti E hanno avuto Anche una passione A mettere le mani Spocarsi le mani E sperimentare Con i vari laboratori Che abbiamo Diciamo offerto a loro E poi anche da parte Di Materahub Sinceramente Che questo è un percorso Nuovo e per noi Ci dà tantissima soddisfazione Poter creare questi ponti E questi momenti belli Che ci fanno Solo crescere In realtà Ed è tutto Per questa edizione Grazie per essere stati Con noi A voi tutti Una buona giornata Grazie a tutti